Novità cinema I migliori film stasera in tv Domenica 4 giugno 2023 The Last Eclipse è andato in onda su Iris Ati21 Un film di Taylor Huckford, con Katie Bates, Jennifer Jason Leigh, Judy Parfit, Christopher Plummer, David Stratern, Eric Bogosian, John Cirelli, Kelly Burnett, Roy Cooper, Tom Gallant, Weldon Allen, Wayne Robson, Bob Gunton, Ruth Marshall e Ellen Muth La trama del film La 35enne Selena Strada George, affermata giornalista di New York, deve tornare nel suo nativo Maine per incontrare sua madre, Dolores Claiborne, sospettata del di Vera Donovan, l'anziana e ricca signora che guardava da anni Le umiliazioni, il freddo, le sue mani screpolate tutto ciò che Dolores ha sopportato per salvare e far studiare sua figlia Un film di Taylor Huckford, con Katie Bates, Jennifer Jason Leigh, Judy Parfit, Christopher Plummer, David Stratern, Eric Bogosian, John Cirelli, Kelly Burnett, Roy Cooper, Tom Gallant, Weldon Allen, Wayne Robson, Bob Gunton, Ruth Marshall e Ellen Muth La 35enne Selena Strada George, affermata giornalista di New York, deve tornare nel suo nativo Maine per incontrare sua madre, Dolores Claiborne, sospettata del di Vera Donovan, l'anziana e ricca signora che aveva assistito per anni Le umiliazioni, il freddo, mani screpolate tutto quello che Dolores ha sopportato per risparmiare e far studiare sua figlia Il caso Collini Il trailer ufficiale del film HD Eddie è in onda su TV 2000 alle 21 e 20, un film di Simon Hunter, con Sheila Hancock, Kevin Guthrie, Paul Brannigan, Amy Manson, Wendy Morgan, Donald Pelmear, Raquel Kehler, Daniela Brower, Christopher Dunne, Tori Butler-Art, Tanya Windsor e Salian Fellows La trama del film Il film è interpretato da Edith Moore, un'anziana signora che ha più di 80 anni Eddie è il trailer italiano ufficiale del film HD, un film di Simon Hunter, con Sheila Hancock, Kevin Guthrie, Paul Brannigan, Amy Manson, Wendy Morgan, Donald Pelmear, Raquel Kehler, Daniela Brower, Christopher Dunne, Tori Butler-Art, Tanya Windsor e Salian Fellows Il film è interpretato da Edith Moore, un'anziana signora che ha più di 80 anni Il miglio verde in onda su Rete 4 alle 21 e 25, un film di Frank Darabont, con Tom Hanks, Gary Sinise, Barry Pepper, Jeffrey De Moon, Michael Clarke Duncan, David Morse, Dubs Greer, Doug Utkison, Bonnie Hunt, Michael Jetter, Patricia Clarkson, Eve Brent, James Cromwell, Sam Rockwell, William Sadler, Harry Dean Stanton, Scotty Leavenworth e Graham Greene La trama del film e il protagonista della storia è Paul Edgecombe, la cui vita viene completamente sconvolta dall'incontro con il prigioniero John Coffey Nel 1935, Paul lavora al Green Mile, soprannome del braccio della morte di Cold Mountain Accusato di aver due gemelle, John viene condannato a morte e viene incarcerato nel miglio Nonostante la sua stazza gigantesca, l'uomo è molto scosso e spaventato e questo spinge Paul a non credere di poter essere completamente malvagio Mentre il M